La centrale dalla 1-3 manda altre pattuglie e anche i vigili del fuoco cortesialmente perché la situazione è drammatica, le macchine insistono a passare, prima o poi qualcuno ci rimane affogato, entra l'acqua nelle abitazioni perché le onde fanno entrare l'acqua all'interno delle abitazioni, quindi cortesia manda i vigili del fuoco e manda altre pattuglie. E qua la situazione, cioè stiamo alla motopedetta della Guardia Costiera. Un tempo rimanivo piantati noi stai però, minchia. Ma dopo la vigliettina 11? Vigliettina 1-3 Avanti! Eh, ci stoppa. Vigliettina 1-3, prova a ripetere la comunicazione che ti ho preso. Questo è un po' sempre capace di quello che ti è detto. Allora, per la zona dove ci troviamo devi chiudere tutte le strade. Manda che vigili il fuoco perché ci sono le persone che stanno uscendo dalle finestre dalle case perché sono... No, vabbè, non ti credo. ... Go! ... Grazie.